La DS3 Crossback è un suo compatto che riassume eleganza e tecnologia in uno stile unico, inoltre, offre anche ampie possibilità di personalizzazione e grande praticità quotidiana. Ecco quindi la nuova identità DS, solo attrazione anteriore, tutta da scoprire. DS3 Crossback, design interni, ricercata e in formato compatto, ecco, in breve, la DS3 Crossback. Il suo design ricercato si differenzia da quello delle concorrenti soprattutto grazie ai numerosi dettagli di stile della carrozzeria. Due punti essa infatti si presenta con il frontale dominato da una grande mascherina esagonale e contornato da fari lunghi e sottili, uniti alle luci di urne verticali. Sulle fiancate saltano subito all'occhio le maniglie nascoste nelle portiere che però fuoriescono avvicinandosi all'auto, con la chiave in tasca, mentre sul posteriore si notano i sottili sfoghi d'aria laterali nel paraurti, finti ma grintosi, e la linea cromata che unisce i fanali orizzontali. Lunga 4,12 metri, poco più di un'utilitaria, è comunque spaziosa e si presenta con rivestimenti di qualità come alcantara, pelle e tessuti di vario tipo, oltre all'originalità del quadrato inclinato, un motivo ripetuto nella forma del cruscotto digitale e nei comandi nella console. Tutto questo design rende gli interni molto belli ma poco pratici, anche per via dei tasti a sfioramento della plancia, poco utili, a cui è meglio preferire il classico schermo tattile, Max 10,3, fascina triste, però, l'insonorizzazione è buona e la vettura è ben rifinita. Ovviamente, in puro stile SUV la posizione di guida è rialzata da terra, ma non è comunque troppo alta e in realtà ricorda quella di una berlina. Sempre internamente, c'è spazio per 5 passeggeri, meglio 4, e i loro bagagli, da stivare nel bagagliaio che passa da 350 a 1050 litri. Penalizzato però dalla forma irregolare, dall'accesso basso, 78 cm da terra, e dal tasto di sblocco scomodo da usare. DS3 Crossback, motori e consumi. Il piccolo SUV di esse è confortevole nella guida, anche grazie a delle sospensioni abbastanza rigide e allo stesso diretto, due caratteristiche che insieme la rendono perfetta per i viaggi, soprattutto in autostrada. Ma la vettura è agile anche nel traffico, sia grazie alle sue dimensioni che per i motori, per quanto riguarda i benzina, sono tutti. E3 1,2 benzina Puretech, uno da 155 CV con la trasmissione automatica i8, gli altri due uguali ma con 100, manuale, e 130 CV, automatico. Tutte queste motorizzazioni rientrano nello standard 6,30€. Inoltre c'è anche una versione a gasolio, la 1,5 Blu AD da 100 CV, cambio manuale a 6 rapporti, e 130 CV, automatico. i8, queste motorizzazioni rientrano invece negli ultimi standard diesel 6,20€. La vera chicca è la versione elettrica E-Tense, 136 CV, ovviamente è la più silenziosa, ed offre 320 km di autonomia, batteria. 50 Kiloetri caricabile in 7,5 ore. Quest'ultima è praticamente uguale alla DS3 Crossback standard, e differisce solo per i motori e le finiture satinate con il logo E-Tense. DS3 Crossback, allestimenti e prezzi. La DS3 Crossback è un piccolo SUV molto personalizzabile, come? Principalmente grazie alla possibilità di averla con tinte a contrasto fra tetto e carrozzeria. Un altro aspetto fondamentale della vettura riguarda gli interni. Un optional, ad esempio, è il sedile del guidatore massaggiante, ma anche l'head-up display 400€, il parcheggio con Park Pilot 500€, i fari LED 1400€, e il pacchetto Drive Assist, da 600€. Nel listino di vendita troverete tre allestimenti. Sua chic business performance line.